Sono onorato di portare il mio sostegno al compagno Arnutakis e al suo consigliere Alexakis che ho conosciuto in tante riunioni del Comitato delle Regioni della CRPM, la Conferenza delle Regioni Periferiche e Maristiche. Insieme abbiamo fatto una battaglia per il mantenimento dei fondi strutturali europei e per le politiche di coesione. Noi abbiamo chiesto anche di più, abbiamo bisogno di più investimenti per il lavoro, per le infrastrutture. Insieme nel Comitato delle Regioni abbiamo difeso gli interessi dell'Europa Mediterranea perché comunque lo sviluppo dell'Europa del Sud è fondamentale per tenere unita tutta insieme l'Europa. Insieme abbiamo firmato anche un documento, siamo entrambi socialisti e pensiamo che occorre un'Europa unita ma anche un'Europa solidale e sociale, incentrata sui temi del lavoro, sui temi della coesione, sui temi della tolleranza e dell'eguaglianza. Voglio quindi fare ai compagni un saluto, bocca al lupo e spero che sia un risultato per loro soddisfacente, una riconferma forte perché senz'altro hanno fatto un buon lavoro, ne abbiamo bisogno in Grecia e ne abbiamo bisogno anche in Europa.